Nascosta in una goccia d'acqua, sai cosa c'è? La più grande forza pulente della storia. Guarda, a 100 gradi l'acqua diventa vapore. Miliardi e miliardi di molecole di vapore che attaccano lo sporco così. Disgrega. Ingloba. Niente al mondo agisce contro lo sporco come il vapore di 100 gradi. 100 gradi Fisselden, la potenza del vapore contro quel diavolo di sporco. Grazie.